Tu stai bene? Un po' di lividi, qualche graffio e un paio di costole rotte. Sono fortunato. E il pilota? Lui ha compilato il piano di volo. No, ma c'era il contatto radio. Quanto tempo è passato? 36 ore. Di acqua ce n'è in abbondanza, finché possiamo sciogliere la via. Abbiamo quattro pacchette di mandorle, un paio di merendine, mezzo panino e un po' di biscotti. Che tipo di biscotti? Cosa? Scherzavo. Dal 23 novembre al cinema.